Abbiamo giocato una discreta cara, abbiamo sofferto un po' a muro il gioco delle cinesi, devo dire che non è semplice affrontarle, hanno combinazioni di gioco abbastanza rapide. Diciamo però che abbiamo tenuto il cambio palla molto alto, nonostante in certi momenti abbiamo sofferto un po' di ricezione. È stata una partita particolare, con cui abbiamo dovuto mettere tanta pazienza per ottenere i punti. Alla fine ne esce fuori una bella vittoria, importante 3-0 perché risparmiamo energie per il proseguo della competizione. Domani abbiamo un giorno importante di riposo e poi penseremo all'ultima gara decisiva per il primo o secondo posto.